Al Teatro Massimo di Cagliari va in scena più forte del destino, tra camice e paillette, La mia lotta alla sclerosi multipla. A interpretarlo, oltre ad averlo scritto, è Antonella Ferrari, che è nota al grande pubblico soprattutto per le sue presenze in varie fiction, da Cento vetrine all'ultimo di Pupiavati, che tra l'altro gli ha fatto grandissimi complimenti per la sua recitazione. L'opera è tratta da un suo libro che ha lo stesso titolo ed è ormai un bestseller, edito dalla Mondadori, siamo alla quinta edizione. Sì, sì, alla quinta edizione, poi adesso appunto, come hai detto giustamente tu, è diventato un bestseller e quindi è una grande soddisfazione. Poi io non nasco scrittrice e quindi vedere il calore del pubblico attraverso questo libro mi ha fatto molto piacere ed era mio dovere da attrice trasformare questo libro in uno spettacolo teatrale e portarlo in giro in tutta Italia. Antonella è anche ambasciatrice dell'associazione italiana Sclerosi Multipla, oltre ad essere stata insegnita dell'onoreficenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Quest'opera è altamente autobiografica e racconta la storia appunto di una persona disabile dentro il mondo patinato dello spettacolo. Qual è il messaggio che volevi dare? Volevi rompere gli schemi? Volevi far capire che andare oltre gli stereotipi? Cosa volevi fare? Volevo semplicemente dimostrare che un'attrice disabile può essere un'attrice anche sul palcoscenico senza essere per forza discriminata e volevo dimostrare che il palcoscenico teatrale può ospitare anche la disabilità senza per forza averla da protagonista e averla sul palco in modo triste. Questo è uno spettacolo allegro, molto divertente. Si prendono in giro gli stereotipi legati alla disabilità, si prendono in giro quei talk show televisivi che vogliono a tutti i costi la lacrima e io prendo in giro anche me stessa. Quindi è uno spettacolo altamente divertente con dei momenti invece un po' di riflessione, di commozione anche verso la fine ma com'è la vita di tutti i giorni. Ci sono dei giorni in cui sei particolarmente felice e dei giorni in cui lo sai meno. E soprattutto io racconto anche questa lotta per arrivare alla diagnosi di sclerosi multipla perché io ci ho messo quasi 20 anni per saperlo. Oggigiorno invece per fortuna la diagnosi è quasi immediata ma io nello spettacolo racconto anche questo. Ma è tutto in tono molto leggero e quindi lo spettatore ha la sensazione che non esista la disabilità e che comunque la disabilità e la normalità siano parte della stessa vita, come giusto che sia. Prima quando chiacchieravamo abbiamo notato un aspetto che non si pensa di solito, cioè che le barriere architettoniche sono prese in grande considerazione rispetto agli spettatori di uno spettacolo teatrale ma poco si considera il fatto che servirebbero distruggere le barriere architettoniche anche per gli attori. Ma sì perché in Italia non si ha ancora l'idea che un attore possa essere disabile quindi per gli spettatori ci sono sempre delle, giustamente, delle agevolazioni e si fa sì che lo spettatore disabile possa assistere a uno spettacolo teatrale. Si pensa meno all'artista disabile che magari per salire sul palcoscenico deve affrontare delle scale e non sempre l'artista disabile ne è in grado. Quindi sì, vedendo queste scale un po' mi sono preoccupata, però poi alla fine siamo più forti del destino e quindi dobbiamo dimostrarlo. Nel tuo libro e quindi anche in quest'opera racconti degli anedoti anche molto forti, insomma la tua presenza nel mondo dello spettacolo ha incontrato situazioni molto particolari. È stato più difficile per te essere rifiutata per una parte per la disabilità o al contrario magari aver avuto il sospetto di essere stata accettata per questo? Ma guarda, io quando sicuramente sono stata più spesso rifiutata, nel senso che mi veniva detta la solita frase che sai le assicurazioni oppure non c'è un ruolo adatto a te. Non tutti sono coraggiosi e grandi come Pupiavati che Pupiavati mi ha detto più volte io ti ho scelta e ti voglio fortemente per il tuo talento e non per la tua cartella clinica. Non permettere a nessuno di sminuirlo questo talento. Quindi Pupiavati mi ha fortemente voluto ed è stato un grande onore essere protagonista di una fiction così di successo dove lui voleva questo tipo di attrice. Qualche volta ho avuto il sospetto, ma in pochissimi casi, che qualche regista mi avesse scelta per pulirsi la coscienza. Ma lo capivi subito perché non mi dava un ruolo da protagonista, mi dava un ruolo di due o tre pose. All'epoca li accettavo, adesso ci sto bene attenta. La tua storia è un esempio fortissimo di ispirazione e coraggio. Puoi dare un consiglio a chi si sente sopraffatto? Ma il consiglio è continuare a vivere con degli obiettivi molto chiari nella mente. Cioè una persona non deve dare il ruolo da protagonista della propria vita alla malattia. Quindi la malattia, la sclerosi multipla è una malattia che colpisce soprattutto i giovani e soprattutto le donne. Ma non ti devi far sopraffare da questo, devi continuare a sognare, devi continuare a costruire il tuo futuro, costruire una famiglia, costruirti una professionalità, perché la malattia puoi in qualche modo dominarla se non le permetti di diventare protagonista, altrimenti vince lei. E invece è più forte del destino. Grazie. Grazie a tutti.